bene ragazzi siamo tornati in germania perché la francia fa schifo visto che c'è campi di grano a destra capo di grano a sinistra e le strade infinita che va dritta così proprio una voglia di stare in francia pari a niente visto che ho fatto una volta un viaggio in francia non mi è piaciuto proprio per zero uno schifo è la francia e perché sono andati a vedere il castello della loira ma oltre il castello di ieri adesso andiamo a vedere il relazio a chi chi bene ragazzi siamo nella schwarzwald e oggi è il terzo giorno terzo mi pare non è vero il quarto non so contare bello che adesso abbiamo comprato due chili di spec della foresta nera perché è buono molto buono e adesso ci sono visto gli orologi cucù prima adesso si va avanti verso questo è vero camping con le ciabatte fuori a mettere in carica tutto droni poli telefoni musica box automati per farlo andare di là computer guardate questo è il campeggio ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Noi siamo fuori senza ombrelli Qua noi abbiamo il nostro camper Qua E adesso si va a mangiare Fuori per la prima volta Go fan Ragazzi siamo arrivati a Neuschwanstein E tipo Qui su c'è il castello Non so se potete vedere E' lassù E Poi niente stamattina abbiamo fatto Braggens Fussel E adesso questa era la nostra ultima sosta E da qui Si torna a Trento Fine della vacanza Triste Ecco Giù a piedi e vai Ciao 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 Tutto casato Ma si non si vede niente Un ponte Un ponte su quattro pilastri l'incentro da quel puntino lì verde l'impalcatura sotto e da dove si buttano quelli del bungee jumping sono 192 metri in caduta libera una cazzata una cazzata va beh dai non mi butto giù perché è chiuso volevo buttarmi giù ma si vede che il destino non vuole che mi suicida mi suicidi e quindi sono a posto e quindi adesso andiamo sulla cappella ecco questa cosa bella è una cappella del ponte europa bello cocco bello e beh dai una cappella normale bene ragazzi questo è la fine del viaggio se non mi investono prima e poi c'è l'autostrada che ci porterà al prenderò e quindi scivola volare